buongiorno a tutti non posso non ringraziare l'organizzazione di questo convegno perché oltre alla amicizia antica che ci lega devo dire che è un piacere vedere come nel tempo un piccolo laboratorio universitario è diventato una realtà scientifica e tecnologica così di primo ordine quindi grazie per questa occasione e anche io vi devo ringraziare perché avete fatto veramente il miracolo di farci arrivare tutti devo dire anche questo fa parte di un'organizzazione efficiente e efficace allora io farò un discorso molto tra il passato e il presente con l'avvertenza che per me è molto importante sottolineare le problematiche di rapporto con il pubblico negli ultimi anni quindi ripartiremo da quello che i nostri avi ci hanno lasciato soprattutto dal quindicesimo e sedicesimo secolo quando si intrecciano gli studi sull'antico e le rappresentazioni della città a loro contemporanea l'area dei fori imperiali e di quelli che oggi chiamiamo mercati di treiano è oggetto di tanti studi interpretazioni rappresentazioni in ambedue gli ambiti ruderi e ricostruzioni immagine dei fori e immagine della città si intrecciano e si susseguono e molti sono gli autori che danno forma alla città antica utilizzando tipologie di edifici invece a loro contemporanei partiamo da una prima rappresentazione sulla base delle misure di leon battista alberti la proiezione di quella che era la città di roma contemporanea dove come vedremo sempre la colonna traiana e la torre delle milizie sono dei punti di riferimento costanti con bartolomeo marliano siamo nel 1544 abbiamo anche l'indicazione che comincia a essere più precisa dell'area della suburraplana dalla sequenza dei tre fori corretta e segnala i balneapauli che erano questa struttura citata dai cataloghi regionari nella quale poi noi oggi sappiamo essere stati i cosiddetti mercati di traiano leonardo bufalini roma moderna 1551 riproduce la il segno della curvatura del grande emiciclo questo segno della curvatura del grande emiciclo è un'altra delle costanti delle rappresentazioni della città e leonardo bufalini 1551 appunto l'abbiamo visto poco fa invece passiamo qua a pirroligorio con pirroligorio la situazione è molto più complessa perché da un lato restituisce la roma moderna a lui contemporanea nel 52 indicando comunque la collocazione dei fori principali il foro di traiano con la corona l'area del forum augusti e l'area del cosiddetto forum transitorium che colloca bene e invece successivamente nel 1553 la prima mappa di roma antica disegna molto bene io spero che beh insomma capirlo però perfettamente difficile però si susseguono la colonna l'arco di traiano la basilica ulpia e a fianco un edificio del tutto paragonabile al complesso dei mercati dopodiché il foro di augusto viene disegnato come un recinto con l'edes circolare al centro come era noto da monete nella prima redazione del tempietto sul campidoglio ed era infatti raffigurato così e segue il foro transitorio con la pianta di roma antica del 1561 pirroligorio è più preciso e ci dà un quadro del recinto che immaginava intorno alla colonna traiana con la proiezione della moneta sull'ingresso al foro e la colonna e poi a fianco sempre la struttura ipotetica dei mercati di traiano alle spalle poi seguono la basilica ulpia un ampio recinto con basilica augusta in corrispondenza delle sedra settentrionale del foro di augusto forum augusti templum il tempio di martultore sempre come un etes rotondo e infine il foro transitorium palladium et nerve gli operac ci interessa più che altro perché nel 1574 dà una certa importanza alla rappresentazione dei bailine a pauli e anche se poi la dislocazione delle varie aree dei fori non è proprio esattamente corretta però c'è un grandissimo impegno anche da parte sua come ben sappiamo a sottolineare l'area archeologica centrale con mario cartaro 1576 i livelli della nostra fabbrica dei mercati sono due quindi è una restituzione ancora più precisa se possibile mentre maggio nel 1625 posiziona la colonna e l'andamento dell'emiciclo costruito come già nei precedenti ma il momento in cui le cose cambiano nella resa e nella archeologia monumentale è quello di piranesi con roma antica nel 1756 abbiamo la prima redazione scientifica che unisce i resti archeologici e le tavole le lastre conosciute della forma urbis che è stata scoperta e da una rappresentazione più aderente al terreno ai margini del quirinale indica l'edificio dei mercati di traiano e poi il foro di augusto piranesi coniuga l'esigenza tecnica della planimetria affidabile con la restituzione dell'immagine urbana e produce lavori di architettura di progetto e di veduta e quindi restituisce la magnificenza e l'architettura dei romani nel tomo le antichità romane figura anche la pianta dell'antico foro romano con le contrade circonvicine che poi non sono altro che i fori imperiali e traccia la situazione degli odierni avanzi come li chiama riferendosi nel testo al monastero di santa caterina da siena che occupava i mercati di traiano lo colloca tra gli avanzi del foro di traiano e poi descrive questi avanzi della fabbrica circolare dello stesso foro interpretando come sarà fino a non molto tempo fa tutto sommato all'inizio del novecento i mercati come parte integrante del del foro il grande emiciclo come parte integrante del foro con nolli abbiamo la prima grande mappa di roma ancorata al sistema del catasto ma diciamo ai nostri fini è relativo il discorso perché colloca diciamo le particelle catastali ma non cambia la lettura dei monumenti l'esempio di ridolfino venuti mi è sembrato interessante perché c'è un'attenzione all'orografia e quindi anche i margini del quirinale dove sono i residui dei bagni di paolo emilio sono particolarmente dettagliati arriviamo al ormai all'ottocento quando gli studi proseguono felicemente e soprattutto abbiamo una quantità di restituzioni sia delle strutture che vengono scoperte sia dei frammenti architettonici e scultorei allora antonio de romanis e antonio nibbi nel 1826 restituiscono roma antica espongono i risultati delle nuove indagini specificano parte del quirinale tagliata da traiano in corrispondenza in pratica degli edifici del grande emiciclo e poi la basilica ulpia con la colonna e la biblioteca ulpia che viene indicata in modo espresso con angelo ugeri abbiamo due redazioni 1800 e 1826 della roma moderna ma che in pratica cerca di integrare i dati dei monumenti dei grandi monumenti con la visione della città a lui contemporanea sono tutti personaggi che ci hanno lasciato anche per fortuna tacquini manoscritti testimonianze dirette della loro presenza sui cantieri dei lavori di quegli anni come accade con luigi canina al quale dobbiamo come dire la prima sistematica rappresentazione dei grandi monumenti di quest'area e non solo di quest'area chiaramente siamo nel 1850 la profonda conoscenza diretta delle emergenze antiche delle fonti scritte e numismatiche la partecipazione alle molte indagini consentono di sviluppare la rappresentazione planimetrica e in parallelo le vedute dei monumenti ovviamente con integrazioni che questa volta ci permettono quasi di entrare dentro no c'è questa volontà descrittiva monumentale molto importante nella percezione per il pubblico di quell'epoca e quindi abbiamo la piazza del foro di traiano con il portico meridionale la facciata dell'ulpia dove sono evidenti i problemi che non sono facili da risolvere di innesto tra il portico e questa facciata e la resa comunque dell'insieme è molto equilibrata lontana dall'effetto dilatazione gigantismo del del foro di traiano che invece conosciamo oggi e vediamo la sezione della basilica e la sezione trasversale dal tempio al muro meridionale della piazza così come è poi perdurato per lungo tempo in effetti e quindi è molto importante anche perché lui ricolloca sullo sfondo anche il grande emiciclo e fa passare un percorso tra la colonna e il possibile tempio e poi abbiamo la sezione ricostruttiva e soprattutto l'interno della basilica ulpia colloca sul primo ordine un freggio storico continuo ma questo ci interessa relativamente la cosa interessante è che descrive la dilatazione al di là dell'ordine architettonico di separazione tra il vano rettangolare centrale e le sedra e questa cosa è molto importante perché altrimenti si vedrebbe tutto molto schiacciato invece c'è questa capacità di entrare al di là delle di vedere al di là delle colonne pianta e dunque invece abbiamo il cortile della della colonna traiana perdonatemi non so sono andata troppo avanti vabbè però è il cortile della colonna traiana dove la colonna svetta tra le due biblioteche il muro di fondo della basilica ovviamente e il tempio in uno spazio piuttosto compresso diciamo qui abbiamo il prospetto con la riproposizione del tempio e dell'ingresso invece al al foro sulla base delle monete conosciute e qua la presentazione delle fabbriche traianee alle spalle che dovevano essere alle spalle della piazza che noi oggi identifichiamo come mercati di treiano e che lui vede come parte integrante della piazza del foro non come un soggetto indipendente il ruolo dei francesi nel diciannovesimo secolo e ovviamente qui non entro nel merito di tutte le ricostruzioni perché sarebbe una cosa da tre ore quattro ore cinque ma è importante perché sono loro che danno un valore alla policromia quindi alla resa dell'ambiente del paesaggio quasi degli edifici che prima non era invece sentito quindi vediamo solo qualche esempio qui abbiamo la collocazione nello spazio diciamo di prosper matthieu morei nel 1835 che rileva la curva dei bagni di paolo emilio che sono diciamo stati scavati nel 1813 almeno un settore e quindi lo scavo ha fatto pensare a delle botteghe aperte su una strada colloca anche correttamente molti dettagli del complesso che comunque continua a essere collegato direttamente al foro in una restituzione molto bella che l'immagine non non rende assolutamente e c'è però questa restituzione molto bella policroma che ridà corpo a tutta la sezione trasversale e che quindi appunto cambia molto il modo di osservare questi monumenti gaude è sempre sul foro di traiano 1867 quindi avanziamo come conoscenze anche ma qui lo lo cito solo perché lui indaga quello che resta di questi benedetti bagni di paolo emilio cioè dei mercati di traiano ed è un po sconcertato li ritiene non adatti alla maestosità l'importanza di quest'area probabilmente intuisce che sono cose molto diverse per i canoni lui lo fa un ragionamento di canoni estetici ma poi anche molto concreto da questo punto di vista e qui fa la restituzione della sezione del foro dando un ruolo appunto particolare invece alla poligromia dei marmi e alle superfici dipinte perché prolifera anche la resa delle pareti dipinte non solo dei marmi colorati un brevissimo sguardo al foro di augusto con ucard 1843 conosce frequenta assiduamente gli scavi presso il tempio restituisce prospetti e sezioni comprensivi degli archi tiberiani ai lati del tempio anche se in una posizione più avanzata ma a quell'epoca l'area degli archi non era stata scavata ancora e le grandi esedre vengono rese aperte sulla piazza senza il portico davanti con rodolfo lanciani è inutile dire mi sembra che non ci sono grandi commenti da fare tutto cambia perché è la prima redazione che unisce la città moderna la proiezione di tutta la città antica costruita la forma urbis soprattutto ed è questa la base moderna di conoscenza di roma antica tra il 1893 e il 1901 in questo periodo si va formando anche tutto quel movimento di opinioni che ci porterà nel 1911 alla grande mostra universale con la mostra archeologica nelle terme di diocleziano e il nostro bigot e qui siamo a casa sua non potevamo non ricordarcelo e fa questa prima operazione molto importante come abbiamo ben visto ancora oggi fa discutere e anima il dibattito scientifico e lo fa in un contesto che quello appunto della mostra universale gestita progettata curata da rodolfo lanciani e in un contesto che ormai sconfina l'argomento culturale diventa anche politico di identificazione del grande passato di roma per dare un grande passato alla nuova nazione che si affaccia sullo scenario europeo la necessità di dare una percezione fisica all'impianto urbano della città produce una più semplice e meno particolareggiata restituzio urbis di giuseppe marcelliani tra il 904 e l'11 che noi affettuosamente chiamiamo la roma di coccio e che purtroppo è conservata in decine di frammenti al museo della civiltà romana decine di frammenti che stavano per essere gettati via in un altro deposito dove non so come era finita questa cosa e comunque invece noi li abbiamo conservati e speriamo prima o poi comunque di fare un lavoro anche su questo plastico di livello completamente diverso come base conoscitiva è quello appunto di bigot che si basa sui maggiori studiosi del periodo cioè lanciani e ulzen e negli stessi anni e questo riguarda l'aspetto rapporto col pubblico rapporto con una committenza pubblica vedono la luce le vedute di giuseppe gatteschi che è un archeologo che lavora con pittori e disegnatori e da questo tandem emergono varie proposte gatteschi colleziona l'apporto e l'appoggio di rodolfo lanciani e di altri studiosi dello stesso periodo le sue vedute vengono accolte nella mostra universale appunto e qui abbiamo questa visione del colle capitolino che ovviamente oggi tutta da aggiornare ma la cosa interessante è che si vede una città vera cioè una città con gli edifici e con un movimento una vita diciamo non sono solo le restituzioni dei grandi monumenti sul lato estremo di questa visione lui colloca le piazze dei fori imperiali molto in breve però nell'ordine corretto altre vedute interessanti dal punto di vista appunto della resa per una visibilità ampia non solo relativa alla stretta cerchia dei degli studiosi è questa del foro di augusto con un monumento equestre di stampo ottocentesco al centro e però i portici che vanno a chiudere le esedre la piazza del foro di traiano che è animatissima come vedete e sullo sfondo presenta il grande emiciclo perfettamente restituito e l'interno della basilica ulpia che credo ovviamente dipenda molto da canina che però ha anche il pregio anche in questo caso di darci il concetto dello sfondamento dell'ordine di divisione la visione delle sedra al di là questo dunque nelle precedenti casi lui collabora con dei disegnatori pittori betti e trabucchi soprattutto qui invece la collaborazione è con un giovane importantissimo studioso che è Italo Gismondi che si affaccia sulla scena culturale seguendo tutto quello che accade durante il famoso ventennio registrando tutto studiando le architetture e veramente cambia il rapporto nel senso che non solo documentare e animare come tentava di fare appunto Gatteschi ma contestualizzare la fisicità urbana e conoscere, entrare nel sapore, nell'ambiente del monumento e lui ha tutti i presupposti anche della sua formazione che gli consentono di parlare con l'antichità di discorrere con l'antico l'immagine della città, le variazioni orotopografiche monumentali col tessuto edilizio abitativo in gran parte da inventare sono quello che caratterizzerà il grande plastico al quale arriveremo tra pochissimo qui abbiamo la pianta che viene redatta da Lugli e Gismondi con tutta la registrazione dei nuovi scavi sottolineo il fatto che poi i lavori di Gismondi spesso verranno un pochino, come dire, manomessi perché il concetto era che erano dei rilievi cioè forse almeno in altri tempi non si è dato un valore invece scientifico ai rilievi di Gismondi che non era semplicemente uno che disegnava le cose e le riportava ma aveva studiato quegli spazi allora la pianta dei fori imperiali per esempio che lui redige ad un certo punto comincia a essere utilizzata in vario modo e tutta una serie di dettagli che magari sembrano secondari scompaiono qui siamo appunto di fronte a una bellissima immagine del plastico dove appunto lui persegue questa immagine della città e di un tessuto abitativo appunto da integrare quasi inventandolo è vero però inventa per volumi legandolo al tessuto dei grandi monumenti quindi non è oggetto semplicemente di fantasia e della necessità di riempire dei vuoti ma di dare appunto un'immagine della città antica pensare in 3D perché questo fa ma pensando appunto all'edificio originario e altre immagini ci mostrano l'area dei fori con il Colosseo sullo sfondo dove queste sono sulla vostra destra il piano di lavoro per realizzare il plastico e invece a sinistra un volo d'uccello a china delle grandi piazze dei fori questa è appunto la pianta originaria dei fori imperiali con tutta una serie di dettagli che via via andranno sparendo con il ventunesimo secolo abbiamo fatto tante indagini nuove cambia il rapporto con i vari pubblici che ci troviamo di fronte i nostri musei finalmente non sono più autoreferenziali ma si rivolgono ad un pubblico che diventa centrale nell'azione della pubblica amministrazione mi sono dimenticata prima di dire che Gatteschi riceve degli incarichi mirati già dal comune di Roma per redigere le sue tavole quindi già a quell'epoca si era capita l'importanza di valorizzare il patrimonio per un grande pubblico noi questo tema ovviamente l'abbiamo avuto come mission per forza di cose direi e dobbiamo tutti fare sempre una grande attenzione alla tecnologia digitale perché non sempre è frutto di un centro di studio che nasce come centro di studio prima di diventare un centro tecnologico e quindi spesso le formulazioni digitali sono molto belle ma molto poco attendibili questo purtroppo succede nel mercato troviamo tantissime ormai presentazioni di tutta Roma Antica e quindi le nostre parole d'ordine sono state di nuovo documentare, animale, contestualizzare ma anche creare atmosfera e riprodurre l'ambiente alimentare il processo di identificazione nei luoghi della memoria da parte del pubblico rappresentare la diacronia che è fondamentale e che fino ad ora era stata un po' sottasciuta per una questione direi quasi di affetto mostro un'immagine di Gil Chalier passeggiando nella Roma dei Cesari personaggio che è stato una presenza costante al Museo della Civiltà Romana e che poi ha editato questo bellissimo libro con questa versione a colori, diciamo, del plastico di Gismondi lo ricordo perché è una persona squisita in tanti abbiamo avuto l'onore di conoscerlo e di partecipare alla presentazione del suo libro che fece Filippo Guarelli e quindi mi sembrava giusto qui ricordarlo come comunque un modo di porgere ad un grande pubblico il tema della città antica e passiamo a tempi più recenti a Jimmy Packer James Packer, scusate dopo una lunghissima gestazione di 14 anni a Jimmy Packer pubblica la sua opera monumentale sul foro di Traiano alla quale non entro nel merito dei tre libri e di tante cose che si potrebbero ridiscutere ma quanto della realizzazione delle vedute ricostruttive che poi ne abbiamo discusso con lui ma dopo che erano state fatte riflettono una visione architettonica piuttosto discutibile nelle soluzioni proposte questa piazza del foro con gli alberi per esempio è una di quelle che insomma si potevano fare in modo differente e anche qui l'aggancio tra la facciata dell'ulpia e il portico laterale ora parte la presenza o meno delle insegne la dislocazione di statue dorate un po' dappertutto quadrighe cose varie ma è proprio diciamo l'aspetto architettonico che funziona poco questo per dire che anche grandi impegni perché Jimmy è un amico tutti l'abbiamo conosciuto una persona che si è impegnata moltissimo su questo settore hanno bisogno però di un dibattito di un dialogo per arrivare magari a formulazioni più coerenti cosa abbiamo fatto noi io ho lavorato fino al 30 giugno al museo dei fori imperiali ai mercati di Traiano quindi faccio parte di un team molto ampio di persone che hanno prodotto nel tempo soprattutto a un certo punto hanno scelto di produrre delle vedute acquarellate perché c'era sembrato un modo per usare una bidimensionalità che ci consentisse poi di passare a una tridimensionalità con diciamo un lavoro di post-produzione per rappresentare sia gli edifici i materiali architettonici e la cronologia post-antica per noi era molto importante contestualizzare le ricomposizioni ai reperti presentati nel museo quindi dare corpo alla magnificenza pubblica e alla competenza dei costruttori romani e per i mercati di Traiano abbiamo scelto come vedremo un punto di vista molto particolare quindi qui vedrete le realizzazioni sia dell'ufficio fuori cioè di chi ha scavato sul terreno sia di chi ha lavorato nel museo è ovvio che tutto questo è stato fatto nel tempo ed è datato e quindi è logico che oggi si va avanti dopo questa produzione si deve andare avanti però è stato un momento molto importante perché noi dovevamo presentare al pubblico in qualche modo la scientificità delle ricerche e delle indagini e nello stesso tempo però fargli capire di che si trattava perché se no queste grandi piazze questi grandi monumenti sembrano sempre un qualcosa di molto lontano dalla realtà e quindi abbiamo varie situazioni cioè il foro di Augusto con la piazza il tempio i portici per esempio già sui portici stiamo studiando i materiali architettonici probabilmente cambieremo la visione della facciata dei portici però questo ci serviva ad animare un po' la situazione il foro di Nerva lo stesso il foro transitorio il templum pacis che capisco può oggi suscitare molti ripensamenti ed è giusto che sia così perché l'archeologia non è una scienza esatta e sempre uguale a se stessa evolve con gli studi e anche con le posizioni diverse degli studiosi con gli scavi con gli scavi appunto anche devo dire certe volte gli scavi nei depositi assolutamente mi è capitato ultimamente un ditone come affettuosamente ormai lo chiamiamo che forse è di una statua di culto e non si era mai detto che fosse stata trovata una statua di culto quindi la cambiare è nelle cose appunto nelle recenti pubblicazioni che ha citato prima il professor Tucci c'è anche l'interno dell'aula del templo pacis che personalmente mi interessa non perché ci abbia lavorato io ma perché dà l'idea del rapporto tra una statua di grandi dimensioni e gli esseri umani che forse frequentavano l'aula questo è molto importante dare questa percezione la biblioteca forse e la piazza del foro di Traiano anche su questo sul muro sud e sulla sala trisegmentata abbiamo in corso una serie di ripensamenti il cortile meraviglioso quello che si chiama cortile di passaggio tra il foro di Traiano e il foro di Augusto nel quale a me piacerebbe tanto poter inserire sculture elementi di un certo valore ma per adesso non si trova niente a cui attaccarsi e i mercati i cosiddetti mercati di Traiano che abbiamo ormai sdoganato da questa definizione e che qui vedete un acquarello che riproduce la successione degli edifici come sono grosso modo qui entriamo negli spazi con delle sezioni e qua invece in tre step vediamo l'evolversi del monumento dall'età antica a quella ottocentesca il punto di vista è molto particolare e mira a far vedere con chiarezza la separazione dal foro di Traiano e la difficoltà di visualizzare anche all'epoca il grande emiciclo che noi immaginiamo come uno sfondo architettonico di un certo genere che in realtà era visto solo camminando quindi parzialmente e poi avete dove mostriamo la torre delle milizie e due forze torri in costruzione una sicura l'altra molto meno la parte medievale l'evoluzione nella parte nell'età medievale e infine l'evoluzione con il convento di Santa Caterina da Siena che costruisce un po' da per tutto questo complesso lo ricompatta notevolmente qua abbiamo voluto con la simulazione del cantiere di lavoro sulla strada materializzare l'aggiunta del grande arco sulla via biberatica che non è nella redazione traianea ma viene aggiunto in corso d'opera durante il cantiere per il foro di augusto abbiamo ambientato le sedre con i loro ma con i marmi colorati sia del pavimento che degli ordini architettonici e un'attività dei tribunali su elementi mobili perché non abbiamo trovato tracce né nel dati d'archivio né sul terreno oggi di elementi stabili in muratura diciamo l'ingresso dall'arco dei pantani prima chiaramente della costruzione dell'arco di germanico o druso che sia con questo andamento molto costretto diciamo e sul fondo vedete per esempio che c'è un terzo braccio di portico che invece ora è stato messo in discussione però a me interessava qui dare proprio l'idea dello spazio angusto tra il tempio e il portico questa è una veduta molto contestata da Filippo Guarelli lo so lo so che però ci serve ci è servita in passato sempre per dare l'idea del rapporto tra un elemento statuario sicuramente un acrolito e i visitatori diciamo di quello spazio e soprattutto la policromia data sia dal dipingere lastre marmore sul fondo della parete sia chiaramente dai marmi colorati utilizzati nell'aula del colosso identici a quelli dell'aula di culto del tempio di Marte Ultore nel caso del tempio di Venere Genitrice questo è stato sezionato per aprire la scella e vedere all'interno e all'esterno il posizionamento dei pannelli decorativi con varie combinazioni di amorini infine la diacronia dell'area dopo l'età antica e il foro di Nerva invaso il foro transitorio invaso dalle costruzioni allora il sistema di comunicazione che abbiamo adottato nel museo prevedeva anche prevede anche oltre al media tradizionali dei videopannelli che navigano appunto all'interno delle vedute ora vediamo se parte il no non parte ecco sì tuttora l'area archeologica dei fori imperiali si trova nel centro della città moderna in questo straordinario insieme di piazze monumentali che si andarono edificando in poco più di un secolo e mezzo nel cuore della città antica si inserisce il foro di augusto inaugurato nel 2 avanti cristo il fondo della piazza del foro di augusto era dominato dal tempio di marte ultore o marte vendicatore la piazza era circondata da portici e davanti alle colonne con fusti in marmo giallo antico erano collocate statue raffiguranti personaggi illustri della storia repubblicana uomini sommi e della famiglia Giulia oltre ai portici su entrambi i lati del foro erano presenti due esedre arricchite dall'ampio uso di marmi colorati oggi restano tratti dell'originaria pavimentazione fusti di colonne frammenti sparsi e resti dell'altissimo muro di recinzione in tufo l'esedra nord probabilmente adibita a tribunale presentava sulla parete di fondo delle nicchie inquadrate da colonne e riccamente decorate una di esse è stata parzialmente ricomposta in questa sala del museo all'interno delle nicchie erano poste ancora statue di personaggi illustri le cui gesta erano ricordate dalle iscrizioni incise sui basamenti possiamo abbiamo poi fatto una collaborazione con la Duke University corri corri corro e sono le ultime due con la Duke University dove è stata soprattutto analizzata la Basilica Ulpia ma più che altro abbiamo anche posizionato nello spazio per far capire quanto era grande la Basilica Ulpia nello spazio appunto la Basilica ai mercati e il confronto col Colosseo posizionandoli direttamente su una aerea e poi è stato appunto fatto tutto un lavoro parametrico in AutoCAD e poi con una serie di stampe molto particolari per ottenere il plastico in chiave moderna della Basilica e con questo vi lascio è applausi grazie